Ciao, sono Anna Chiara Della Bella, ho 20 anni e abito in un paese in provincia di Avellino, ma ho degli appoggi anche a Roma e a Napoli. Frequento l'Università di Salerno, sono al secondo anno del corso di lettere moderne, ma la mia più grande ambizione è la recitazione. Ho iniziato da bambina frequentando corsi di teatro greco presso la mia città, ho preso parte a diversi spettacoli teatrali anche con la compagnia Clanacca, ho poi frequentato una scuola di recitazione cinematografica a Napoli Arena e al termine dei tre anni ho avuto modo di diplomarmi e prendere parte a un cortometraggio diretto da un insegnante della mia scuola. Ho preso parte a diverse masterclass con professione artista, con diversi casting director e registi, un'esperienza bellissima e davvero molto importante e formativa per me. Ho preso parte all'opera prima di Giovanni Tortorici interpretando il ruolo di Serena, la cui inquilina del protagonista, il film è 19. Oltre alla recitazione mi piace tanto lo sport, ho praticato per diversi anni basket e nuoto a livello agonistico. Sono rappresentata dalla cantera management. Adesso vi mostro i miei profili.